Occorre quindi che l'Europa si rafforzi, che si dia finalmente una politica estera comune, unica e che si dia una politica della difesa comune. Questo porterebbe a tutti noi un risparmio di molti miliardi di euro, ma soprattutto farebbe diventare l'Europa, quello che oggi non è, una potenza mondiale capace di sedersi al tavolo delle potenze militari mondiali e di avere quindi un gioco importantissimo nel futuro del mondo.